scatenati come non mai Thor si ha acchiappato la coperta e ha deciso che è sua Dorothy e Alvin come dei disperati Dorothy ogni tanto si puccia nella piscina che ve lo dico è un po' vuota perché evapora l'acqua ma niente in tempo zero e non ci sto dietro è così successo ma adesso andate a casa tutti oggi Thor tu con quella coperta lì era carina era carina non fa niente c'è il birillo che ti piaceva tanto si sono calmati tutto bene vi aspettiamo vabbè Thor è l'ultimo stasera che va a casa mi sa ok buon rientro a chi sta rientrando buon proseguimento a chi è in piscina buona giornata